Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione del TG6 che apriamo con la visita questa mattina del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio a San Gabriele dove ha partecipato ad un convegno sulla prevenzione sul dissesto idrogeologico presente anche il sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca il servizio di Paolo Renzetti, vediamo Con il capo della Protezione Civile qui oggi a San Gabriele si parla di prevenzione del rischio in Abruzzo gran parte del territorio è a rischio idrogeologico Il sistema nazionale si è dotato anche di una struttura di missione presso Palazzo Ghigi Italia Sicura c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Dipartimento che in questo senso collabora con le proprie competenze in questa valutazione In Abruzzo mi sembra una regione attenta a queste problematiche però chiaramente bisogna modulare bene l'utilizzo delle risorse e soprattutto lavorare anche per quello che compete il nostro sistema su quella che è la prevenzione non strutturale quindi conoscenza del rischio, diffusione dei buoni comportamenti nelle situazioni di emergenza e soprattutto evitare di fare errori strutturali come costruire laddove non si dovrebbe e quantomeno prenderne conoscenza laddove è già avvenuto Si parla di emergenza anche perché sono mutate le condizioni climatiche nel nostro paese? Quelle rendono ancora più critico, già era critico il problema italiano perché per anni abbiamo fatto poco e certe volte anche male le criticità del cambiamento climatico aggravano la situazione abbiamo preso, ci vogliono 10 anni di impegno forte per portare questo paese in Europa davvero su questo punto di vista Abbiamo impostato un piano da 7 miliardi in 7 anni e anche dall'Abruzzo abbiamo cominciato c'è un grossissimo intervento che facciamo su Pescara che dovrebbe andare in cantiere nei prossimi mesi insomma abbiamo iniziato questo viaggio che durerà degli anni Si parla oggi di prevenzione del rischio delle emergenze Mazzocca un tema molto sentito su cui la regione Abruzzo ha investito risorse, uomini e tempo proprio per affrontare quelle che sono state le emergenze negli ultimi tempi Su questo fronte noi insieme alle comunità locali abbiamo messo in campo un lavoro in mane con una dotazione progettuale davvero esecutiva che ci permette di essere attuali e intervenire velocemente Purtroppo stiamo scontando un po' di ritardi che è accaduta derivano dalla comunità europea e dal governo centrale per alcuni vincoli che la stessa Bruxelles ha imposto alla struttura tecnica di missione E a proposito del sottosegretario Mario Mazzocca è arrivato da parte sua la replica alla CNA che ieri aveva espresso preoccupazione sull'andamento della stagione balneare 2016 Mazzocca ha detto comprendo la preoccupazione perché il turismo marino è una parte importante dell'economia regionale da lavoro a migliaia di persone Partendo da questa consapevolezza la giunta regionale ha investito oltre 170 milioni di euro per l'adeguamento del sistema di depurazione delle reti fognarie e per la rinaturalizzazione dei fiumi Così il sottosegretario Mazzocca ha replicato dunque all'allarme della CNA E adesso due news di cronaca Una appena arrivata perché un uomo di circa 80 anni di cui al momento non si conoscono le generalità è deceduto nella tarda mattinata di oggi per un probabile malore mentre stava facendo il bagno nei pressi di uno stabilimento balneare di Roseto degli Abruzzi Quando qualcuno dalla battiglia si è accorto che il corpo galleggiava sull'acqua ha lanciato l'allarme e un bagnino e un vigile del fuoco fuori dal servizio si sono gettati prontamente in acqua tirando fuori l'anziano I sanitari del 118 hanno praticato le manovre rianimatorie ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare Un'altra news di cronaca Sarebbe morto per presunta overdose un 35enne di Teramo pregiudicato tossicodipendente regime di detenzione domiciliare trovato senza vita nel letto della sua abitazione nella frazione di collaterrato basso La scoperta intorno alle 2 di questa notte è stata fatta dal padre con il quale viveva il 35enne Il personale del 118 di Teramo intervenuto unitamente ai militari del nucleo operativo e radiomobile della stazione Carabinieri di San Nicolò a Tordino ne ha constatato il decesso per probabile overdose da oppiacei sono stati rinvenuti e sequestrati anche un laccio emostatico e una siringa La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale civile di Teramo ovviamente a disposizione dell'autorità Giudiziaria, chiudiamo la pagina di cronaca passiamo invece allo sciopero di 24 ore da parte della UGL Auto Ferro Trambieri che si svolgerà domani tra le motivazioni adotte ci sono i contratti di secondo livello i tagli effettuati sull'azienda di trasporto tua la mancanza di un piano d'impresa un organigramma definito non funzionale il sistema manutentivo ferro gomma e l'elenco ovviamente prosegue il servizio è di Francesca Romana Testi Uno sciopero di 24 ore per i ferro tramvieri l'UGL lo indice per il 6 luglio tutto questo riporta ai contratti di armonizzazione Sì, noi il 26 ottobre non abbiamo firmato il contratto di secondo livello per ovvi motivi perché ha prodotto discriminazioni addirittura tra lavoratori sempre con la premessa del Presidente che tutti mettevano tutto nel senso che tutti quanti facevano sacrifici invece si è riversato soltanto sul personale viaggiante sul personale e addirittura sul personale viaggiante ancora di più mentre nelle stanze dei bottoni gli sprechi continuano come la nomina del quinto consigliere d'amministrazione per due anni la consulenza legale esterna nonostante tutto che in azienda già sono presente quelle figure la nomina dei direttori ex direttori generali e presidenti tutti quanti rimasti in azienda da qua a togliere solde nelle tasche dei lavoratori e dopo nelle stanze dei bottoni ripeto, degli sprechi continui noi a questi giochi non ci stiamo noi ci aspettiamo che l'azienda in qualche modo come c'è stato un tavolo romano e l'azienda aveva promesso in qualche modo di riaprire e vedere alcuni punti che non andavano ma ad oggi non abbiamo visto nulla quali saranno le fasce garantite domani? sono 5.30, 8.30 e 13.16 un controllore aggredito e ferito per aver chiesto ad un viaggiatore di mostrare il biglietto sull'autobus lungo la tratta Pescara-Giulianova non è il primo caso e ora la vittima lancia un appello per l'introduzione di forze pubbliche sui bus in supporto al personale viaggiante a rischio in un mese e mezzo questa è la seconda aggressione la tratta è quella Pescara-Giulianova questa è la conseguenza di aver chiesto a un passeggero il biglietto sopra un autobus quando sono arrivato all'altezza di questo ragazzo ho iniziato ad alzare la voce urlandomi addosso di tutto allora l'ho invitato a fornirmi un documento per l'identificazione anche se stili un verbale che poi va perso perché non hanno niente non hanno niente su cui appoggiarti mi ha minacciato dicendomi che la seconda volta che chiamavo i carabinieri per lui la terza mi avrebbe ammazzato io lo invitai molto educatamente come faccio con tutti a scendere dal pullman a quel punto ho visto che mi stava per sferrare questo pugno siccome mi sono reso conto della situazione riuscii a evitarlo parzialmente e mi prese sul setto nasale la fronte poi gli presi la mano per non farmi colpire di nuovo però con l'altra mano mi ha preso uno schiaffo, una botta qual è il vostro appello? perché questo non è un caso isolato dateci un po' più di copertura perché noi siamo gente che la mattina si alza per andare al lavoro non per fare a botte o non per fare una guerra in tringea l'azienda dice che ha fatto questo incontro con le prefetture che ci garantiscono assistenza che ci garantiscono quello che vogliono dire loro ma noi da settembre che io faccio questo lavoro insieme al collega non abbiamo nessuna assistenza noi quando chiamiamo i carabinieri spesse volte non vengono quando chiamiamo la polizia non viene per niente spesse volte quando intervengono invece di identificare questo ragazzo che comunque ci ha minacciato facendogli a meno una parte mettendogli un po' di timore addosso identificano a noi chiedono i documenti solo a noi che li abbiamo chiamati e a proposito di trasporti sindacati spaccati a basto sul caso autoservizi Cerella a denunciare l'accaduto la CGL che lamenta ritorsioni verso un lavoratore da parte delle altre sigle sindacali e lancia un appello sia al presidente della tua Luciano D'Amico che al governatore Luciano D'Alfonso vediamo un caso che spacca i sindacati al loro interno arrivando a chiedere il licenziamento di un lavoratore vittima di un incidente all'interno del piazzale di deposito dei mezzi pubblici di una partecipata tua l'autoservizi Cerella di Vasto i fatti risalgono ad ottobre quando un autista che cercava di salire sul bus è stato investito dal mezzo riportando una prognosi di 15 giorni diciamo che i fatti si sono svolti all'interno del deposito aziendale dove c'era un lavoratore che pretendeva di poter giustamente utilizzare il veicolo dell'azienda per recarsi dal deposito al capolinia gli è stato impedito di salire sull'autobus e di conseguenza il lavoratore che si è immediatamente fatto notare dal conducente qui sullo spigolo anteriore è stato colpito dall'autobus e diciamo scaraventato a terra ci sono tre sindacati Wiltrasporti Fitticisle e Faisacisal che chiedono il licenziamento di un lavoratore diciamo che è stato il loro primo intervento fatto all'insediamento del nuovo presidente Angelo Pollutri come primo intervento c'è stato quello di richiedere il licenziamento di questo lavoratore secondo la CGL la richiesta di licenziamento avanzata dagli altri sindacati sarebbe motivata dall'abbandono dell'autista in causa di un'altra sigla sindacale l'uomo infatti uscito dalla Wilt avrebbe poi proceduto al tesseramento con la CGL riguarda dissidi interne sindacali ma riguarda soprattutto un accanimento con una parte dei lavoratori io direi tra quattro lavoratori nello specifico di cui il sottoscritto ovviamente ne è capofila che oggi si addirittura si traduce anche con un attacco diretto alla presidenza perché si vuole far giustificare in qualche modo gli scioperi che si stanno facendo presso l'autoservizio come scioperi connessi alla mancanza di sicurezza delle fermate quindi dell'esercizio alla vetustata dei mezzi ai mezzi sporchi alla carenza di controlli tutte questioni che se vogliamo risalgono molto molto tempo fa e di cui il vero responsabile è solo ed unicamente il presidente Massimo Cirulli che guarda caso Will Transporti Cisle e Fais si sono tenuti ben indenni dall'accusare e dal chiederne le dimissioni oggi noi facciamo appello in qualche modo al governatore Luciano D'Alfonso e al presidente il magnifico rettore Luciano D'Amico al quale sappiamo che i sindacati si sono rivolti per chiedere le dimissioni del presidente 180 lavoratori dei consorsi di bonifica questa mattina erano in protesta per il mancato rinnovo del contratto le sigle sindacali hanno presidiato il palazzo della regione a Pescara per chiedere un incontro con le istituzioni e rimodulare i salari dei lavoratori che hanno chiesto un aumento del 6% in busta paga dopo 18 mesi di infruttuose trattative lo Snebi che è il sindacato che rappresenta le bonifiche in Italia ha rigettato tutte le nostre richieste tra l'altro la nostra piattaforma era molto moderata e le richieste erano assolutamente contenute ma questo non è servito a rimuovere le incrostazioni e i pregiudizi che lo Snebi ha posto davanti alle nostre rivendicazioni questo ci costringe a scendere in piazza a proclamare una serie di iniziative e questa è una prima di una serie di scioperi che faremo anche a livello nazionale per rimuovere questa posizione di chiusura totale verso le nostre aspettative non c'è né sul piano salariale né sul piano normativo disponibilità a cercare soluzioni condivise che a nostro avviso sono fondamentali anche per avere uno strumento di gestione del processo di riorganizzazione perché il contratto a nostro avviso in questo caso in questa fase assume anche una valenza che è quella di avere uno strumento in più per poter gestire eventuali esigenze derivanti dalla riorganizzazione in atto quindi il contratto è che si intreccia con un percorso che ovviamente ci trasciniamo da tempo e quindi l'esigenza nostra è quella di sensibilizzare le istituzioni affinché si porti a Roma ai livelli delle controparti il messaggio dei lavoratori e quindi si provi a sbloccare il rinnovo del contratto che è uno strumento fondamentale in questo caso Quando si parla di diritto salariale a quanto ammonta la perdita dei lavoratori in questo momento La perdita dei lavoratori è abbastanza alta noi abbiamo chiesto un 6% loro vogliono andare a un 2,7% con un indice IPCA che per noi è improponibile fare fuori addirittura l'anno 2015 non considerarlo per niente quindi per noi è inconcepibile accettare questa situazione noi andremo avanti con una serie di iniziative avremo lo sciopero il 28 luglio a Roma lo sciopero nazionale e poi dopo vedremo quello che succederà cercheremo di convincere la controparte in qualche maniera e quindi scenderemo in piazza di nuovo per queste iniziative Ci spostiamo all'Aquila adesso dove ci saranno presto telecamere vicino ai cassonetti dei rifiuti e la mossa dell'ASM contro le discariche selvagge nate come funghi dopo il sisma ci saranno multe salate e controlli ovviamente intensificati il servizio di Daniela Rosone basta con l'abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti quella che poteva sembrare una minaccia fine a se stessa per scoraggiare i maleducati diventa realtà con l'installazione delle telecamere in alcuni siti dove sono posizionati i cassonetti per conferire rifiuti secondo l'amministratore unico dell'ASM Francesco Rosettini l'occhio della telecamera sarà un utile strumento per scovare chi non rispetta la legge nel dopo terremoto infatti si è registrato un aumento degli abbandoni selvaggi dovuti molto spesso allo svuotamento delle case per le ristrutturazioni prima del sisma basta guardare i dati si producevano infatti 280 tonnellate di rifiuti ora si arriva sino a 2000 tonnellate da settembre poi gli uomini dell'ASM saranno operativi e potranno anche fare le multe di ausilio dunque alla polizia municipale in tal modo da rendere i controlli più capillari saranno aperti anche i sacchi lasciati nei cassonetti saranno inviate ai cittadini buste di immondizia con codice a barre che poi saranno aperti a campione per quanto riguarda invece i lavoratori il comune dell'Aquila sta predisponendo la delibera che autorizzerà il personale interinale chiesto dall'ASM si tratta di 8 unità da impiegare per il trattamento delle macerie la questione aveva scatenato molte polemiche politiche gli 8 però non graveranno sul contratto di servizio ma rientrano nel piano economico dello smaltimento delle macerie ha spiegato l'amministratore Rosettini i 20 saranno compresi nel contratto di servizio facendo delle economie e senza alcun onere aggiuntivo il personale si è reso necessario per l'SM che ha avuto picchi di richieste di ferie secondo quanto spiega Rosettini in contemporanea di 34 dipendenti le ferie sono sacrosante e così si è dovuto ovviare con questa delibera sicurezza sui posti di lavoro un protocollo d'intesa tra la regione e l'INAIL per avviare una serie di iniziative comuni tra le novità nuove banche dati per operare sul piano della prevenzione questo è un accordo sottoscritto con l'INAIL si parla di uno scambio di banche dati qual è l'obiettivo? è il secondo accordo che sottoscriviamo il primo a valere sulla riabilitazione i lavoratori infortunati avruzzesi hanno finalmente la possibilità di accedere a quelle prestazioni ulteriori chiamate extra-LEA che l'INAIL garantisce con un fondo speciale prima non era così il secondo protocollo d'intesa quello odierno interviene sulla prevenzione cioè prima che gli eventi accadano uno scambio di informazioni tra banche dati che consente alla sanità di agire nel miglior modo possibile verso il lavoratore è l'INAIL di darci questa collaborazione molto utile credo che sia un passaggio importante per il mondo del lavoro della regione Abruzzo noi interveniamo sul piano nazionale della prevenzione che è stato recepito con il piano regionale ci sono tempi cronoprogrammi indicatori che in sostanza intervengono su tutte quelle che sono le conoscenze sullo stato di salute che interviene grazie all'INAIL su ulteriori informazioni che possono essere in grado di prevenire per esempio diverse neoplasie e questo scambio di informazioni che è a disposizione dell'INAIL interviene dentro il sistema sanitario regionale che dunque interviene prima ancora che un evento possa verificarsi rispetto a certe patologie così importanti parliamo di politica adesso perché verrà presentata domani la nuova giunta comunale di Roseto degli Abruzzi intanto il sindaco neosindaco sabatino di Girolamo a cinque giorni dalla proclamazione è già al lavoro vediamo sindaco di Girolamo al lavoro per la nuova giunta ormai è questione di ore la nuova giunta sarà presentata domani alle 11 nel palazzo municipale e ora 9 sabato ci sarà il consiglio comunale solenne dove giurerò e presenterò le linee programmatiche e presenterò anche la nuova giunta Roseto siamo in piena estate ovviamente si parla di turismo quali sono le urgenze i primi provvedimenti che prenderà il nuovo sindaco di Roseto degli Abruzzi c'è la necessità di stare in comune di continuo perché ce ne sono tante la prima cosa è la manutenzione della città presentarci il più possibile bene per quel poco che si può fare in 15 giorni presentarci il più possibile belli ai turisti la stagione sta per entrare nel vivo state pensando a qualcosa di particolare proprio per attrarre ancora più presenze anche dalle altre parti della regione noi quest'anno abbiamo trovato delle iniziative già programmate dalla vecchia giunta e non abbiamo avuto il tempo materiale di innovare quindi avremo Roseto per la prima avremo la mostra dei vini avremo la sciabica la pesca con la sciabica e avremo delle iniziative collaterali organizzate dalle associazioni dalle palestre dalle scuole di danza però ecco non abbiamo avuto la materiale possibilità di programmare qualcosa di originale parliamo di eventi adesso perché oltre 100 camion da tutta Italia e non solo sono stati in esposizione nello scorso weekend a Montesilvano per il raduno del mare dell'History Truck Team grande soddisfazione espressa dagli organizzatori ha riscosso successo al di là di ogni più rose aspettativa il raduno del mare dell'History Truck Team che si è svolto sabato e domenica scorsi a Montesilvano nel parcheggio antistante il Palacongressi oltre 100 camion in esposizione arrivati da tutta Italia e non solo tanti gli allestimenti pensati e realizzati all'esposizione si sono aggiunti momenti di intrattenimento come i sexy truck wash e gli stand gastronomici una prima edizione che ha pienamente soddisfatto gli organizzatori stiamo rimanendo sempre più colpiti dalle persone che stanno arrivando anche personaggi inaspettati con camion nuovissimi da presentare qua siamo veramente veramente molto contenti la particolarità di questo evento è che è il primo in Riva al Mare in Abruzzo io penso il primo in Riva al Mare in tutta Italia ed è stato proprio il mare che ha fatto da richiamo per tanti appassionati abbiamo più di 80 camion provenienti dal sud dal centro dal nord Italia e da Zurigo una donna da Zurigo pieno pieno di spettatori visitatori che non hanno niente a che vedere fare con il camion ho deciso di creare questo evento e farlo crescere il più possibile rinnovo l'invito all'anno prossimo e da oggi fino a giovedì Notaresco ospiterà una masterclass organizzata dall'associazione musicale i musici lotariani ospite d'onore sarà il solista di fama internazionale Alessandro Fossi tre giorni di masterclass a Notaresco ma davvero il 6 luglio poi ci sarà un appuntamento importantissimo si parla di un solista di fama internazionale perciò un evento nell'evento si il maestro Alessandro Fossi che è considerato il più bravo musicista per quanto riguarda il basso tubo uno strumento particolare che di solito si può ammirare nelle bande musicali la masterclass di tre giorni con 10 allievi quindi numero chiuso provenienti da tutta Italia il maestro Fossi ha suonato con le più grandi più importanti orchestre al mondo è stato diretto anche dai più grandi direttori d'orchestra del mondo occasione monica in Abruzzo l'evento è stato possibile e sarà possibile grazie al contributo della fondazione Tercas il BIM il patrocinio del comune di Notaresco e di uno sponsor tecnico la Buffet Crampon la celebre fabbrica di strumenti musicali francese quali saranno le atmosfere che accompagneranno la serata? saranno proposti dei brani originali per questo tipo di formazione orchestra di fiati di 40 elementi che si distingue dalla banda tradizionale italiana dalla presenza di due contrabbassi ma anche strumenti insoliti per la banda come il fagotto oppure il colonne inglese per quanto riguarda il repertorio oltre a brani originali scritti per questa formazione anche colonne sonore di film che si addicono molto a questo tipo di orchestra passiamo adesso la pagina sportiva partendo con la serie A con il Pescara che alla ricerca di un difensore sembra essere Guglielmo Stendardo il favorito per la difesa bianco-azzurra dopo il no dell'ex frusinate Aieti l'Atalantino avrebbe già l'accordo con la società bianco-azzurra per l'attacco si parla anche di Maurizio Piniglia che però sembra inarrivabile oggi sarà bianco-azzurro Alessio Di Massimo oltre 400 intanto gli abbonamenti sottoscritti il servizio è di Paolo Renzetti Stendardo Kionberg e Tröst sono questi nomi nuovi in casa bianco-azzurra per la difesa dopo il no di Aieti il 35enne Atalantino è il giocatore più vicino al Delfino la società bianco-azzurra avrebbe già l'accordo con l'esperto centrale che ha però ancora un anno di contratto con la società aerobica ma è tornato forte anche il pressing del Pescara su Norbert Ghiomber centrale slovacco di 24 anni ex Catania ma di proprietà della Roma il giocatore gradito al tecnico Massimo Oddo che spera di riavere anche nelle prossime ore Alessandro Crescenzi dalla Roma più indietro l'ex lancianese Trest nell'ultima stagione al Novara con Marco Baroni nelle ultime ore Radio Mercato ha parlato anche di un sondaggio del Pescara con il Milan per Rodrigo Eli per l'attacco si riparla invece di Suarez ma l'Anderlecht dovrà abbassare le pretese economiche Rumors riferiscono anche di un presunto interessamento della società adriatica per quanto concenne l'attacco per l'Atalantino Piniglia giocatore che però sembra al momento inarrivabile per il Delfino oggi intanto il Pescara chiuderà con il Santomero per il passaggio in biancazzurro dell'attaccante ventenne Alessio Di Massimo l'ex Juventino partirà per il ritiro e verrà poi valutato in caso di bocciatura ci sarà la cessione in prestito ad una società di serie Biolega Pro infine sono oltre 400 gli abbonamenti sottoscritti fino a questa mattina dai tifosi biancazzurri grande l'entusiasmo dei supporters adriatici che sembrano credere nel progetto del patron Sebastiani vediamo adesso in Lega Pro perché il Teramo nelle prossime ore attende una risposta da Marco Sanzovini l'attaccante di proprietà proprio del Pescara ha dato la sua disponibilità di massima ma ci sono ancora degli aspetti da limare intanto giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per la permanenza in bianco-rosso di Stefano Scipioni vediamo Le prossime ore potrebbero essere decisive per stabilire se Marco Sanzovini sarà il nuovo attaccante del Teramo quella di ieri è stata tutto meno che una giornata interlocutoria partita in mattinata con un primo approccio non positivo prima della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti 2016-2017 poi nel pomeriggio altro incontro con le parti che si riavvicinano sensibilmente quasi fino all'accordo nel tavolo a tre dove siede per forza di cose anche il Pescara proprietario del cartellino di Sanzovini si cerca la quadratura del cerchio alle 19 minuto più minuto meno c'è la fumata grigia tendente al bianco ottimismo filtra dalle parti di via Oberdan nelle prossime 24-36 ore nuovo aggiornamento per il sì o il no definitivo intanto la rosa sta per essere completata oggi Di Paolo Antonio e Palestini dovrebbero passare proprio al Delfino rimanendo in bianco-rosso in prestito per un'altra stagione da valutare le situazioni di Tonti se ne parlerà tra qualche giorno di Scipioni rimarrà e giovedì sarà il giorno decisivo e Amadio bisognerà definire con loro l'abbiamo fatto con Speranza con Caedi stesso di Paolo Antonio Dorazio quindi nel gruppo dei vecchi con Petrella non c'è stato bisogno perché avevamo definito poco tempo fa diciamo nell'anno in corso con Scipioni e Tondi c'è da parlare c'è da definire senz'altro quindi poi vedremo appuntamente in settimana cosa uscirà fuori altre due idee e sarebbero due ritorni quello di Piero Antonio Sassano che tornerebbe a Teramo a distanza di due anni Campitelli ci fa un pensierino in settimana potrebbe valutare la cosa con il suo agente così come vorrebbe riportare in Abruzzo Stefano Moreo che in una stagione complicata ha fatto comunque vedere buone cose poi inizierà il ritiro di Ovindoli con la squadra fatta o quasi in attesa delle prime amichevoli precampionato Amichevole di prestigio il 24 luglio a Palena contro il Pescara sarà sicuramente un appuntamento gradito a entrambe le tifoserie Sì entrambe le società e entrambe le tifoserie che questo credo che sia importante con il Pescara c'è stato sempre un buon rapporto quest'anno addirittura si sta per consolidare in maniera ancora più importante quindi credo che l'amichevole sia una cosa piacevole per per entrambe le tifoserie poi sarà in un campo dove certamente c'è bisogno dell'unione perché è un campo che non sarà il Bonolis che è strutturato in maniera diversa quindi la vediamo in maniera positiva e sicuramente sarà piacevole un amichevole piacevole finiamo in serie D perché nel corso della conferenza di presentazione del nuovo organigramma della Chieti Calcio gli Ultras neroverdi hanno fatto irruzione in sala stampa e contestato i dirigenti il patron Pomponi ha abbandonato la conferenza a tutti i particolari nel servizio di Andrea Costantini una mattinata ricca di tensione in casa Chieti doveva essere la giornata della presentazione del nuovo organigramma neroverde con il direttore generale Riccardo Canuti e il neo DS Massimo Mutalipassi che affiancavano il patron Giorgio Pomponi ma l'irruzione degli Ultra del Chieti ha mandato in frantumi i programmi dell'imprenditore romano che a blitz concluso visibilmente provato ha preferito abbandonare una conferenza che lo stesso Pomponi aveva introdotto dicendo la sua sulla vicenda che a Chieti negli ultimi tempi ha fatto discutere la nuova cordata che ha acquisito il titolo della Torre Alex in promozione chiedendo di giocare all'Angelini una vicenda così spiegata da Pomponi praticamente noi siamo stati contattati da due politici che vi rappresentano qui del PD di Chieti il quale abbiamo contato io e l'avvocato Canuti questi signori inizialmente erano tanti programmi anche perché poi non ho visto nessuno questa famosa cordata di rappresentanti ma bensì hanno mandato questi loro due missari noi abbiamo chiesto una cosa loro hanno detto più soluzioni io all'unica cosa ho detto facciamo una bella cosa i soldi in unità della Chieti Caccio facciamo che i soldi vostri che voi fate i 20 ipotetici imprenditori che voi siete li mettete sulla Lega Pro per il pescaggio della Lega Pro a me non mi ha più chiamato nessuno appena abbiamo captato io e l'avvocato Canuti non chiedi direttore di Chieti che era soltanto per me e un mio modesto parere insieme a Riccardo il fatto che potessimo diventare la succursale del pescato no grazie per cui abbiamo rimandato l'offerta ma senza che loro ci abbiano chiamato per cui una risposta noi abbiamo dato tre opzioni nessuna risposta subito dopo la parola è passata al DG Canuti il cui discorso è stato interrotto dall'irruzione dei tifosi neroverdi la tensione sale alle stelle con gli ultra che imputano alla dirigenza di aver fatto tante troppe chiacchiere in questi mesi ma pochi fatti quindi Pomponi abbandona la conferenza e si lascia scappare oggi è una brutta giornata una giornata che imporrà una riflessione all'uomo che appena un anno fa aveva raccolto l'eredità di Walter Bellia e questo era anche il nostro ultimo servizio la seconda edizione del TG6 questa sera alle 19 vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio e vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti